Allora, un 3-0 è una sconfitta che però lascia un po' di esperanza perché è già messato, è veramente effettivo, anche se 3-0 fosse addirittura è un po' troppo, prima mi è stato nato, come diceva, così a 3-1 forse era stato perfetto, giusto? Sì, sono convinta che 2-7 avremmo potuto anche provare a vincerli, soprattutto con il terzo che eravamo lì, però siamo contenti perché dopo un'onza che non è andata come si sperava, qua ci siamo rifatti e abbiamo fatto vedere il nostro carattere. Cos'è mancato oggi secondo te, all'infuori di un rischio magari di fortuna in più e all'infuori di essere più decisivi e determinanti nei momenti importanti, cos'è mancato secondo te? Sicuramente l'infortunio di Elena in politica è stata fuori praticamente un mese e non ha aiutato, quindi secondo me manca proprio integrarsi nella squadra e secondo me col tempo riusciremo a fare molto meglio. La cosa, l'aspetto più positivo che ti ha su tutti i occhi, è una delle pretendenze, una delle, diciamo così, delle ipoteche, c'è l'anno in torneo, cioè alla fine può arrivare sicuramente tra le 4 e è una squadra tosta, molto tosta, quindi per te sta una squadra di più genere non è facile. Esatto, però secondo me quello che ci porta avanti è la grinta e la squadra che siamo, nonostante magari in campo non siamo ancora al 100% in sintonia, però fuori assolutamente siamo una squadra secondo me fantastica Io mi trovo veramente bene in questo gruppo, nonostante sia una delle più piccole, però secondo me questa è la nostra foto, oltre ad avere uno posto sania che è molto forte. Grazie Grazie Grazie